L'idea del vice sindaco Raffaele Daniele di spostare da Piazza Palazzo, dove sono in corso dei lavori, la statua di Sallustio per mettervi l'antica fontana dei Gesuiti, ha acceso un dibattito che dire vivace e polemico è dir poco. La proposta lanciata durante un'intervista ad un quotidiano web lascia perplessi in molti, cioè riportare a Piazza Palazzo un'antica fontana che per molti secoli era collocata lì. È un'idea, sia ben chiaro, che il vice sindaco vuole condividere con la città, che però già sta facendo resistenza. La statua di Sallustio verrebbe spostata in Piazza dei Gesuiti, dove c'è già la statua di Carlo II. Storici, ex assessori politici, già si sono scagliati contro questa proposta ritenuta sciocca da molti, ma c'è anche chi è d'accordo come l'architetto Luca Carosi, che spiega che per lui lo spostamento fu un errore. Fatto sta che anche l'estate aquilana al suo argomento abbiamo chiesto a cittadini e commercianti della zona cosa ne pensano e sono quasi tutti completamente in disaccordo con l'idea di Raffaele Daniele, che difficilmente, stando all'alevata di Scuodi, si potrà concretizzare se verrà ascoltata la voce della città. Sì, l'ho sentita. Credo che... ecco, da capire un attimo se è il caso. Certamente io credo che i problemi siano altri in questo momento. Ecco, per voi commercianti oggi è ancora più difficile, visto il cantiere? Sì, assolutamente, è molto difficile. Infatti cerchiamo sempre un'interlocuzione con il sindaco, il vice sindaco, però ci rimane difficile, devo dire. Abbiamo fatto un'associazione dei commercianti per cercare di avere questo dialogo. Ci stiamo provando, magari ci riusciremo, però i problemi sono altri, sinceramente. È l'ultimo dei problemi la Fontana? Sì, sì, è l'ultimo dei problemi la Fontana in questo momento, secondo il mio punto di vista. Perché la devono spostare? Il vice sindaco ha proposto così e portarci la Fontana dei Gesuiti, fare uno scambio. Lei cosa ne pensa? La Fontana dei Gesuiti? No, io lascerei tutto così con me. Non toccherebbe nulla? Io no, non toccherei assolutamente nulla, perché era così bello prima, deve rimanere come prima. No, secondo me deve restare lì dov'è, per favore non tocchiamola.